Perché il flauto è lo strumento più bello dell'orchestra? Beh, perché tutti noi abbiamo un lato estremamente romantico e un po' nostalgico da sfamare. Ecco, questo strumento fa per voi. Basta pensare alle meravigliose pagine che ci hanno riservato i grandi compositori dalla musica cameristica a quella sinfonica. Suonare il flauto è un po' come cantare e ciò rende questo strumento estremamente complesso e affascinante. Ogni flautista impiega gran parte del proprio tempo di studio per ricercare il suono ideale che si ottiene con la perfetta fusione tra ciò che è corpo e ciò che è strumento. Sai che soddisfazione sentire il tuo suono crescere con te? Tutti pensano che la prima donna dell'orchestra sia il primo violino. Questo significa che non conoscete un flautista. È inoltre innegabile che questo tubo sia uno degli strumenti più virtuosistici dell'orchestra. Se ti piace l'alta velocità, questo strumento fa per te. Quindi, scegli il flauto! Grazie per la visione!